Sicuramente gli spettatori che domenica si sono dati appuntamento allo stadio Bettinazzi non si sono annoiati. Bella giornata e gol a ripetizione da ambo le parti. Con il treviso che si impone 5 a 3 contro l'Adriese. La partita parte subito forte e al sesto minuto sugli sviluppi di una rimessa laterale ci pensa Agnago a driblare due avversari e mettere un pallone facile sui piedi di Posocco che da pochi metri insacca il pallone nella porta avversaria. Passano solo due minuti e ancora Posocco dopo un'azione prolungata del treviso trova il giusto colpo di testa su un assist di Farabeggoli doppietta personale per l'attaccante bianco celeste. L'Adriese prova a reagire e si rende pericolosa al diciottesimo con un tiro dalla distanza ravvicinata che finisce alto sopra la traversa di Sperandio. Sono gli ospiti però con il treviso a trovare il gol con una bella costruzione che trova salviato al limite dell'area mettere una palla per il solito Posocco che marcato stretto dal difensore avversario vede arrivare Agnago gliela appoggia al centro bravo l'attaccante che trova l'angolo basso della porta avversaria ed è il 3 a 0 per il treviso. Un treviso impeccabile fino al trentasettesimo minuto quando cinque minuti di follia riportano i padroni di casa in partita. Al trentasettesimo infatti il gol di strada che di testa finalizza un ottimo cross dalla destra di Abdala dopo un bel uno due compagni. Nei minuti successivi ancora l'Adriese e a trovare il gol con Maniero che trova l'angolo basso e la partita si riapre ufficialmente. Rimani facilmente aggiornato sul Treviso FBC e tutti gli altri sport della provincia di Treviso grazie all'app del TG+. Si riparte ed è subito la squadra di casa in attacco che a trovare un ottimo Abdala in area di rigore. L'ottima marcatura dei difensori bianco celesti lo costringono ad allargarsi troppo e ne deriva un tiro fuori a lato. Riparte il Treviso e con un ottimo Nunes lancia lungo per Posocco e viene atterrato in piena area di rigore lanciato proprio verso quest'ultima e in questo caso il direttore invece non ha dubbi è rigore. Dagli 11 metri va il capitano Salviato che non sbaglia e rimette la partita al sicuro sui 4 a 2. I Granata si guadagnano una punizione poco fuori dall'area di rigore. Strada prova il destro basso ma la palla è fuori. Dopo due minuti ottimo disimpegno di Mambelli che si accentra scarica sulla sinistra per il cross basso. Meola viene trovato nell'area piccola impatta sull'estremo difensore Granata. Passiamo al venticinquesimo della ripresa punizione di Meola dalla fascia destra. Mette al centro serie di rimpalli disimpegno dei Blaugrana. La palla arriva sul sinistro di Raggio che con un fantastico tiro a giro sorprende tutti e fa 5 a 2 per il treviso FBC. Ancora Biancocelesti scatenati al 29esimo con Posocco che sfiora la tripleta personale negata solo da un ottimo intervento di Morassi che devia in angolo. Arriva l'ottavo gol della partita ad un minuto dello scadere. Ottima azione dei Blaugrana sulla sinistra con Moras che dopo una serie di dribbling mette al centro. Disimpegno fuori dall'area da parte dei difensori trevisiani. Arriva Mollica che con un destro al volo sorprende Sperandio ed è 5 a 3. In pieno recupero l'Adriese non ha nulla da perdere tutti in attacco per un forcing finale. Sugli sviluppi di un cross dalla destra con scomodo colpo di testa di rosso Sperandio vola e devia in angolo una palla veramente molto insidiosa. Finisce così la partita con il treviso FBC che porta a casa la quarta vittoria consecutiva e arriva al quarto posto in solitaria ad un punto solo dall'ex capolista Dolomiti Bellunesi sconfitta domenica dal Montebelluna. Ora attendiamo il match di sabato pomeriggio al Tenni contro la Virtus Bolzano penultima in classifica di questo campionato ma squadra da non sottovalutare assolutamente per continuare a volare nei piani alti di questo girone.